Il corso le grandezze elettriche fondamentali fa compiere i primi passi nello studio dell'elettrotecnica e dell'elettronica. L'approccio è molto diretto e mira a fornire concetti fondamentali utili per iniziare col piede giusto lo studio dei circuiti elettrici senza rinunciare al rigore espositivo. La corrente e il potenziale elettrico vengono affrontati dal punto di vista dell'energia in gioco e delle convenzioni utilizzate. Si introducono i generatori di tensione e di correnti ideali con i rispettivi simboli circuitali. Il concetto fondamentale di potenza elettrica viene introdotto tenendo sempre presente il bilancio energetico. Il comportamento dei materiali viene affrontato definendo la resistenza elettrica e la sua dipendenza dalla temperatura e definendo il resistore ideale come modello circuitale semplificato. La legge di Ohm viene affrontata in modo rigoroso soprattutto dal punto di vista delle convenzioni dei segni che spesso rappresentano un problema nell'analisi dei circuiti. Si termina infine con la trasformazione di energia elettrica in calore a causa dell'effetto joule. Il tutto è accompagnato da decine di esercizi originali pensati per rafforzare le conoscenze acquisite e sviluppare competenze utili per l'analisi di qualunque circuito elettrico. Il corso è il primo passo per chi si avvicina alla materia ma è comunque utile per conoscere la metodologia usata da Tiny Scuola ed è consigliato a tutti.